Santo Padre, Vinenze, Eccellenze, Fratelli e Sorelle, Continuiamo la nostra riflessione sui grandi Io Sono di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questa volta Gesù non si presenta a noi con simboli di realtà fisiche inanimate, il pane, la luce, ma con un personaggio umano, il pastore. Io, dice, sono il buon pastore. Ascoltiamo la parte del discorso in cui è contenuta l'autoproclamazione di Gesù. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. L'immagine di Cristo buon pastore ha un posto privilegiato nell'arte e nelle iscrizioni paleocristiane. Il buon pastore è presentato, secondo il modello classico, nello splendore della sua giovinezza, ma porta sulle spalle, ben stretta con le zampe, una pecorella. Il che vuol dire che l'immagine giovanea del buon pastore si è fusa con quella sinottica del pastore che va in circa della pecorella. Il contesto del brano sul buon pastore è lo stesso dei due capitoli precedenti, cioè una discussione con i giudei che ha luogo in Gerusalemme in occasione della festa delle capanne. Ma in Giovanni si sa il contesto conta relativamente, perché diversamente dai sinottici egli non è preoccupato di darci un ressoconto storico e coerente della vita di Gesù, che dà, per supposto, ma un insieme di segni e di insegnamenti del Maestro. Questi segni tuttavia, o insegnamenti, non appaiono mai fuori del tempo e dello spazio, come avviene nei libri di teologia, ma sono anch'essi situati in luoghi e tempi precisi, a volte più precisi degli stessi sinottici, il che conferisce ad essi un valore storico in un senso profondo. Diciamocelo pure, l'immagine del buon pastore e quelle connesse di pecora e di gregge non sono più di moda. Non teme Gesù, chiamandoci sue pecore, di urtare la nostra sensibilità e di offendere la nostra dignità di uomini liberi. L'uomo d'oggi rifiuta sdegnosamente il ruolo di pecora e l'idea di gregge. Non si accorge però di come nella realtà viva esattamente la situazione che deplora in teoria. Uno dei fenomeni più evidenti della nostra società è la massificazione. Stampa, televisione, internet, si chiamano mezzi di comunicazione di massa, mass media, non solo perché informano le masse, ma perché le formano, massificano. Senza accorgersene ci si lascia guidare supinamente da ogni sorta di manipolazione e persuasione occulta. Il fenomeno del mimetismo, analizzato così bene da René Girard, è in pieno svolgimento sotto i nostri occhi. Altri creano modelli di benessere, di comportamento, ideali e obiettivi di progresso. E la gente li adotta, si va dietro, timorosi di perdere il passo. Condizionati e plagiati dalla pubblicità. Mangiamo quello che ci dicono, vestiamo come impone la moda, parliamo come sentiamo parlare. Noi ci divertiamo quando si vede scorrere un filmato a passo accelerato, con le persone che si muovono a scatti rapidamente come delle marionette. Ma è l'immagine che avremmo di noi se ci guardassimo un poco più in profondità. Per capire in che senso Gesù si proclama il buon pastore e chiama noi le sue pecore, bisogna rifarsi alla storia della Bibbia. Israele fu all'inizio un popolo di pastori nomadi. I beduini del deserto ci danno oggi un'immagine di quello che fu un tempo la vita delle tribù di Israele. In questa società il rapporto tra pastore e gregge non è solo di tipo economico, cioè è basato sull'interesse. Si sviluppa un rapporto quasi personale tra pastore e il gregge. Giornate intere passate insieme in luoghi deserti, senza anima viva intorno. Il pastore finisce per conoscere tutto delle sue pecore. La pecora conosce la voce del pastore, che spesso parla ad alta voce alle sue pecore, come fossero persone. Dio si è servito di questa immagine, oggi divenuta ambigua, per esprimere il suo rapporto con l'umanità. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Il Salmo 80. Con il passaggio dalla situazione di tribù nomadi a quella di popolo sedentario, il titolo di pastore viene dato per estensione anche a quelli che fanno le veci di Dio sulla terra, i re, i sacerdoti, i capi in genere. Ma in questo caso il simbolo si scinde. Non evoca più solo immagini di protezione, di sicurezza, ma anche quella di sfruttamento e di oppressione. Accanto all'immagine del buon pastore fa la sua comparsa quella del cattivo pastore. Il profeta Ezechiele troviamo una terribile requisitoria contro i cattivi pastori che pascono se stessi. Si nutrono di latte, si vestono di lana, ma non curano minimamente le pecore che anzi trattano con crudeltà e violenza. A questa requisitoria contro i cattivi pastori segue una promessa. Dio un giorno si prenderà cura personalmente del suo grece. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Ezechiele 34. Gesù nel Vangelo riprende questo schema del buono e del cattivo pastore, ma con una novità. Io, dice, sono il buon pastore. La promessa di Dio è divenuta realtà, superando ogni attesa. A questo punto, benabili pazzi, fratelli e sorelle, dobbiamo richiamare alla mente l'intento che ci siamo proposti con queste meditazioni querissimali. Un intento personale più che pastorale, cioè far penetrare il Vangelo nella nostra vita per poterlo annunciare al mondo con più credibilità. Il discorso di Gesù ha due attori, il pastore e il gregge, cioè al singolare ogni singola pecorella. Con quale dei due ci identificheremo? Sant'Agostino, nel giorno anniversario della sua ordinazione episcopale, diceva al popolo, per voi io sono vescovo, con voi sono un cristiano. Vobbis sum episcopus, vubis cum sum cristianus. E in un'altra occasione diceva, Nei vostri confronti siamo come pastori, ma rispetto al sommo pastore siamo delle pecore come voi. Dimentichiamo dunque il nostro ruolo, chi di pastori, chi di predicatore, e sentiamoci per una volta soltanto, unicamente, pecorelle del gregge. Ricordiamo la domanda che sta a cuore a Gesù nel dialogo di Cesarea di Filippi. Per voi, chi sono io? Come dicesse, dimenticate per un momento chi sono per gli altri, per la cultura, per la teologia. Concentratevi su di voi. Il grande psicologo Carlo Gustavo Jung definisce lo psichiatra e cioè un guaritore malato. Il senso della sua teoria è che bisogna conoscere le proprie ferite psicologiche per curare quelle degli altri e che conoscere le ferite degli altri aiuta a sua volta a curare le proprie. L'intuizione dello psicanalista vale anche per le ferite spirituali. Il pastore della Chiesa è anche lui un wounded healer, un malato che deve curare, aiutare gli altri a guarire. Cerchiamo di vedere qual è la principale malattia di cui dobbiamo curarci per curare gli altri. La cosa che da un capo all'altro della Bibbia viene inculcata alle pecore nei confronti di Dio pastore è di non temere. Le parole si affollano a questo punto nella nostra mente, cominciando da quella di Gesù. Non temere, piccolo Grecce, perché avete paura, gente di poca fede, disse agli Apostoli dopo aver sedato la tempesta. Ricordiamo anche alcune parole familiari dei salmi, non solo come semplici citazioni, ma facendoli nostri. Adesso e ogni volta che li recitiamo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché Tu sei con me. Oppure il Signore è la mia luce, la mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Parliamo dunque di questo male oscuro, della paura, che ha tanto potere di rubare agli uomini e alle donne la gioia di vivere. La paura è la nostra condizione esistenziale. Ci accompagna dall'infanzia alla morte. Il bambino ha paura di tante cose, ne chiamiamo i terrori infantili. L'adolescente ha paura alle volte dell'altro sesso, si avviluppa in complessi o di timidezza, o alle volte di aggressione. Gesù ha dato un nome alle principali paure di noi adulti. Paura del domani, che mangeremo. Paura del mondo, dei potenti, di coloro che possono uccidere il corpo. Su ognuna di queste parole, egli ha pronunciato il suo noli timere, non temere. E questa non è una parola vuota, impotente, come quella che ci rivolgiamo noi quando diciamo fatti coraggio. Questa è una parola efficace, quasi sacramentale, che opera quello che significa. Che cos'è la paura? Lasciamo da parte l'angoscia esistenziale di cui disquisiscono i filosofi da quasi due secoli. Parliamo delle paure comuni, familiari. Possiamo dire che la paura è la reazione a una minaccia al nostro essere, la risposta a un pericolo vero o presunto. Dal periodo più grande di tutti, che è quello della morte, e i pericoli particolari che minacciano la tranquillità, o l'ingolumità fisica, o il nostro mondo affettivo. La paura è una manifestazione del nostro istinto fondamentale di conservazione. A seconda che si tratti di paure, pericoli oggettivi o reali, immaginari, si parla di paure giustificate o ingiustificate, o addirittura di nevrosi, claustrofobia, agorafrobia, paure di malattie macinarie, e via dicendo. La psicologia e la psicanalisi cercano di curare paure e nevrosi analizzandole e portandoli dall'inconscio al conscio. Il Vangelo non distoglie da questi mezzi umani, anzi li incoraggia, ma aggiunge qualcosa che nessuna scienza può dare. San Paolo scrive chi ci separerà dall'amore di Cristo. Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. La liberazione non è qui in una idea o in una tecnica, ma in una persona. Il solvente di ogni paura è Cristo, il quale ha detto «Non abbiate paura, io ho vinto il mondo». Dall'ambito personale, poi l'Apostolo, sempre nello stesso testo, allarga lo sguardo sul grande scenario dello spazio e del tempo. Dalle piccole paure individuali passa a quelle grandi e universali. Scrive insieme al capitolo ottavo della lettera ai Romani «Io sono infatti persuaso che né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Né morte né vita. Cristo ha vinto la cosa che ci fa più paura al mondo la morte. Di Lui la lettera agli ebrei dice che è morto per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere cioè il diavolo e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Poi aggiunge né altezza né profondità che è come dire nell'infinitamente grande che è l'universo con le proporzioni che vanno sempre più dilatandosi nell'infinitamente piccolo l'atomo di cui abbiamo scoperto a nostre spese la terribile potenza. Oggi siamo più che mai esposti a questo genere di paure cosmiche. L'uomo moderno avverte acutamente la sua vulnerabilità in un mondo violento e impazzito. Che ne sarà dell'avvenire del nostro pianeta se nonostante i ripetuti gridi di allarme del Santo Padre e delle persone più responsabili della società continuiamo a briglie sciolte a consumare e a inquinare. al termine delle sue riflessioni filosofiche sul pericolo della tecnologia per l'uomo moderno Martin Heidegger quasi gettando la spugna esclamava solo un Dio ci può salvare ma un Dio qui è scritto con lettera minuscola che è un modo mitico per dire qualcuno. noi togliamo l'articolo indeterminativo e diciamo solo Dio e sappiamo quale Dio ci può salvare. Questo non è uno scaricare su Dio le nostre responsabilità ma credere che alla fine tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che Dio ama. Quando si ha a che fare con Dio la misura è l'eternità. Si può essere delusi nel tempo ma non nell'eternità. Noi cristiani abbiamo un motivo ben più forte del salmista per ripetere davanti a ogni sconvolgimento fisico o morale del mondo e ce ne sono Dio è per noi rifugio e forza aiuto sempre vicino nelle angosce perciò non temiamo se tremo la terra se crollano i monti nel fondo del mare salmo 46 ma non abbiamo preso ancora in considerazione la cosa più consolante che il Vangelo ha da dirci sulle nostre paure e angosce dopo avere in mille modi esortati i suoi discepoli a non temere Gesù ha fatto qualcos'altro mai si era sentito dire nella Bibbia che il pastore buono dà la vita per le sue pecore che le conosce le guida le difende le cura questo sì ma non che dà la vita per esse Gesù lo ha promesso e lo ha fatto egli ha preso su di sé le nostre paure Dio dice l'autore della lettera agli ebrei nei giorni della sua vita terrena Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte l'autore alluda quello che avvenne in Gesù nella notte dei Gezzemani l'evangelista Marco dice che nell'orto degli olivi Gesù cominciò a sentire paura e angoscia e disse ai discepoli la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate Gesù si sente solo tagliato fuori dal consorzio umano chiede agli apostoli di stargli vicino di rimanere con lui la stessa lettera agli ebrei mette in luce il messaggio consolante racchiuso per noi in questa misteriosissima pagina del Vangelo non abbiamo dice un sommo sacerdote che non sappia prendere parte delle nostre debolezze egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi escluso il peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia così da essere aiutati al momento opportuno prendendo rischio di sé Gesù ha redento anche le nostre paure e angosce dalle sue piaghe siamo stati guariti dice di lui la scrittura dico il nuovo testamento Gesù è il vero Hunded Healer di cui parlava lo psicologo il piagato che guarisce le piaghe ha fatto delle paure e delle angosce occasione di crescita in umanità e di comprensione degli altri ma neppure questo esaurisce ciò che il Vangelo ha da dirci circa le nostre paure se tutto finisse qui la nostra consolazione sarebbe ancora incompleta avremo davanti agli occhi un eroico e commovente esempio da seguire ma non una mano che ci sostiene ma ecco il secondo grande annuncio del Vangelo il guaritore trafitto è risorto da morte e ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo non ci ha dato solo dunque un esempio di come vincere l'angoscia ma ci ha dato il mezzo per vincerla la sua presenza e la sua grazia a Paolo che si rattristava a causa della spina nella carne dice ti basta la mia grazia i martiri ne hanno fatto l'esperienza tangibile e ne fanno tuttora l'esperienza tangibile negli atti dei martiri cartaginesi uccisi sotto l'imperatore Settimio Severo nei primi anni del terzo secolo che tra l'altro sono tra i più attendibili storicamente tra gli atti dei martiri si legge che una di esse di nome Felicita era incinta all'ottavo mese e nei suoi dolori del parto gemeva nel carcere per il dolore uno dei custodi le disse se ti lamenti adesso che farai quando sarai gettata alle fiere nell'arena e lei risposta adesso sono io a soffrire allora un altro soffrirà per me ma abbiamo un esempio più vicino a noi in carcere alla vigilia di essere impiccato in seguito al fallito colpo di stato contro Hitler il pastore Dietrich Bonhoeffer scrisse questi versi che vengono spesso usati adesso come inno liturgico da forze amabend amabend und ammorgen und ganz gewiss am jedem noien tag ci siamo imposti fratelli e sorelle di non parlare in queste meditazioni di quello che dobbiamo fare noi per gli altri ma solo di quello che Gesù è e fa per noi di identificarci con le pecorelle non con il pastore ma una piccola eccezione dobbiamo farla in questa occasione nonostante tutte le esortazioni del Vangelo non sempre è il nostro potere liberarci dalla paura e dall'angoscia in compenso è il nostro potere liberare qualcuno o aiutare a liberarsi dalla paura e dall'angoscia Pascal ha scritto nel suo memoriale Gesù è in agonia fino alla fine del mondo e non bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo egli continua a essere in agonia perché nella dimensione dell'eternità in cui è entrato non esiste più un passato ma tutto è misteriosamente presente anche la sua notte nel Getsemani ma è in agonia anche in un altro modo meno misterioso lo è nel suo corpo mistico in coloro che sono oppressi dall'angoscia e dalla paura a causa della solitudine delle malattie della persecuzione dell'esilio della guerra siamo noi ora gli occhi la bocca e le mani di Cristo cerchiamo con essi di recare conforto a qualcuno di loro e ci senteremo dire nel cuore l'avete fatto a me dobbiamo essere anche noi tutti altrettanti wounded healers poveri malati che guariscono gli altri termino con un aneddoto che molti forse conoscono ma che ci aiuta a incidere in noi l'immagine di Gesù che ci porta sulle spalle nei momenti difficili della nostra vita parla di un uomo che in sogno rivede tutta la sua vita ecco un breve riassunto della storia cammino sulla sabbia in rivo al mare lasciando dietro di me non uno ma due paia di orme capisco che il secondo paio sono le orme di Gesù che cammino al mio fianco e sono felice ma ecco che a un certo punto quel secondo paio scompare sulla sabbia e si vedono soltanto le orme di due piedi questo capisco avviene proprio in corrispondenza ai momenti più bui e difficili della mia vita me ne lamento e dico Signore mi hai lasciato solo proprio quando avevo più bisogno di Te figliolo mi risponde Gesù quel solo paio di orme erano le mie tu eri sulle mie spalle nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo